e quando uno mente, mente. Allora, invece di dire le cose campate in aria, mi fai parlare un attimo? Certo, parlo. Allora noi, il comune, non ci metteremo un euro. Ma non ci credo, siete inaffidabili. Mi fai pentire la frase? No, siete inaffidabili, capisci? Siete inaffidabili, siete inaffidabili. Noi non possiamo, non possiamo, non possiamo. No, 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 alziamo solo un po' la volta. No, a meno che non mi arrestano perché ho un sacco. Cosa rappresenti? Io che le voto. Ma non è che vado a fare di bene. Voti quello che ti dicono di votare. Allora, torniamo a dire, è il vostro dovere a amministrare bene. Ci sono un sacco di persone senza casa, senza lavoro. E allora gli azzini nido hanno delle rette altissime. Ma basta, ma sei tu che sei in comune, sei tu che sei andato in comune con certe promesse, hai capito? Io ho fatto le promesse di salvare il mondo come fanno altri. Io ho fatto le promesse, non l'ho fatto questa promessa. E dove sono il mantenimento? Voi siete andati lì per segnare una discontinuità. Fare quest'opera che volete fare era dentro il vostro programma, era dentro le vostre promesse. GTT è una società che stava a essere privatizzata. Come le fanno queste olimpiadi? Non li metteremo noi soli. E chi le va? Non li mettiamo soli. Allora, sperate. No, 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 no. È il gioco delle tre carte. No, no. È il gioco delle tre carte. Non li possiamo sopparare. Questa amministrazione qui, che dirà sì per il 2026, non ci sarà più questa amministrazione. Tanto sperate. Quindi chi arriverà ad assorbirsi? I guai che avete fatto voi. Guarda, noi di guai. No, i guai che avete fatto voi. Noi di guai non... Perché se passa questa roba qui... Assicuro che noi di guai non l'abbiamo fatta. Se passa questa roba qui, è tanto che quella robetta che vanno fatto vedere, sarà quella che costerà più di tutti. Perché rimettere su il trampolino e il bob costerà un casino di soldi. Io non so quanto costo, andremo a discutere anche questa roba. Noi soldi nel mese.